Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial per risolvere gli errori su Need for Speed Ragazzi oggi ho già fatto un tutorial su come risolvere i problemi di crash e lag Guardate quella guida e ragazzi in questo nuovo tutorial vi spiego come risolvere i problemi di grafica su Need for Speed Quindi prima di iniziare con il tutorial ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale Di attivare la campanella ragazzi e di lasciare un like se questo video è stato utilissimo In descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina per scaricare questo driver Seleziono la lingua, italiano, scarica Accetto il contratto, avanti Installa Bing Tool che sarebbe un motore di ricerca, no, avanti Un'altra foto, installazione completata Ed eccoci qua Adesso andiamo nella cartella di Need for Speed per risolvere problemi riguardo ai cache da cancellare E fare una breve riparazione su Launcher Eh, questo qua Electronic Arts Oppure se l'avete su Origin la stessa cosa Fate una riparazione Eccoci qua nella cartella di Need for Speed Ragazzi andiamo un attimo su Shader Cache Questi sono i file che dobbiamo cancellare Perché una volta cancellati ragazzi Dobbiamo anche fare una riparazione su Electronic Arts come ho detto prima E poi si farà di nuovo un ripristino E ritorneranno di nuovo qua più aggiornati Quindi cancelliamo questi due file Andiamo un attimo nella cartella dei documenti Quindi questa qua, Need for Speed Andiamo su Cache Questa è la cartella E dobbiamo cancellare anche questi due file E come ho detto Una volta fatta la riparazione Ritorneranno di nuovo questi file Anche una volta aperto Need for Speed Ritorneranno di nuovo questi file Ma questa volta più aggiornati e nuovi Quindi se avete sempre questi problemi Fate sempre così Cancellate e fate sempre una riparazione Così affinché poi non rilasciano nuovi aggiornamenti Poi andiamo un attimo su Settings Ora ragazzi dobbiamo rinominare questi due file Non cancellarli Quindi rinominiamo una alla volta Cliccandoci tasto destro sopra Rinomina Scrivendo così BK Come la cartella Perché nell'altro video ho rinominato quella cartella BK Quindi fate anche con quest'altro file Poi ragazzi Una volta fatto come ultimo passaggio Andiamo a riparare Need for Speed Attraverso l'applicazione EA Il launcher dei giochi Questi qua Oppure su Origin Quindi ragazzi Grazie per questa visione Iscriviti al canale E noi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Ciao